OLE, 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 CAMPIONI, CAMPIONI OLE, 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 CAMPIONI OLE, OLE, CAMPIONI e io voglio ringravervi perché scrii acolo campioni 2013-2014 e di questo a avuto campioni, perché a riuscito a fare un'equipo, un'equipo, un'equipo e che si riuscite atmosfera di seara questa, quello che avete fatto in un campionato intregto o di quando vi ha detto, ambitiile, si a riusciti a riusciti a riusciti a riusciti a riusciti ho detto che ho venito anche io con la parte dell'Echipo, con il don Ovidio Hulia e anche Cristi, che è in spatele nostri, spero che non ci sono molto molto vorba lunga săracea omului, distracție plăcută, felicitări, vacanță plăcută și spor la treabă în Liga 4-a, perché o să venim mai desto